Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana, anzi questa è la scorsa, sono momenti di grande fervore per la gamma di Fiat perché qualche giorno fa vi abbiamo parlato del lancio della gamma della Fiat 500 elettrica quindi non la versione in allestimento la prima ma le versioni se vogliamo più base vi abbiamo parlato della Fiat 503 P1, quella con la terza portiera per salire più agevolmente a bordo e vi abbiamo parlato anche per i 40 anni della Fiat Panda della nuova gamma compresa anche la nuova Fiat Panda Sport FCA e in particolare Fiat oggi presentano una nuova gamma, un restyling e un nuovo modello decisamente interessanti stiamo parlando della nuova gamma Tipo che si arricchisce oltre al nuovo restyling anche della Tipo Cross partiamo dalla gamma della Tipo normale che viene rivisitata in questo restyling del 2020-2021 e viene rivisitata nelle sue varianti 4 porte, Station Wagon e anche 5 porte abbiamo tre allestimenti che si declinano in Tipo, City Life e Life oltre a questa però, che è se vogliamo l'anima più Life, abbiamo la seconda anima che è quella un po' più avventurosa che appunto viene chiamata Cross, quella della Tipo crossover, permettetemi il termine che viene divisa in due sottocategorie, due sottoallestimenti, la City Cross e la Cross solamente disponibile nella variante a 5 porte ma parliamo e partiamo principalmente dal restyling della Tipo un'auto che ha riscosso praticamente subito grazie al suo prezzo molto competitivo e agli allestimenti molto ricchi di serie un grande successo soprattutto sul mercato italiano ed europeo questa Tipo viene rinnovata con diversi dettagli come i fari che essendo stati ridisegnati presentano una tecnologia full LED quindi disegno e firma luminosa LED al posteriore ma anche full LED all'anteriore non solo questo, abbiamo anche una nuova griglia con il monogramma Fiat che è stato visto per la prima volta rinnovato sulla 500 elettrica ma adesso è disponibile con una nuova griglia tridimensionale anche sul restyling della Tipo chiaramente questi cambiamenti, soprattutto parlando di fari full LED permettono non solo un design più accattivante e più moderno e innovativo ma anche un bel risparmio perché chiaramente i fari full LED consumano meno elettricità meno energia e quindi c'è un minore consumo di CO2 ma non solo, troviamo dei cambiamenti nell'anteriore e nella parte bassa perché abbiamo dettagli del paraurti rifiniti in cromo satinato quindi questa rifinitura in color ghiaccio opaco, Ice Matte denominato da FCA che si abbina anche ai nuovi design per quanto riguarda i cerchi in lega diamantati da 16 o da 17 pollici per il resto la vettura non viene stravolta perché mantiene le sue proporzioni mantiene le sue dimensioni, almeno nelle versioni appunto classiche della Tipo Life e mantiene anche il disegno della linea laterale passando agli interni, dettagli come il volante oppure i comandi per il climatizzatore e degli inserti della vettura sono stati rivisti, rinnovati per renderla più dinamica ma non solo, dal punto di vista della tecnologia, l'abbiamo visto sulla Panda ma anche sulla 500 troviamo il nuovo schermo dello Uconnect 5 con una diagonale da 10,25 pollici con tutte quante le dotazioni come la RadioDub, Android Auto e Apple CarPlay ma anche il quadro strumenti digitale da 7 pollici per quanto riguarda il TFT dietro il volante non solo, la gamma presenta anche due nuove colorazioni che sono Oceano Blu e Paprika Orange se dovessimo trovare un parallelismo della nuova Tipo Cross mi viene subito da pensare anche complice il design moderno della vettura che si ritrova in tanti stilemi sul mercato alla Ford Focus Active che peraltro abbiamo provato in questo video qui in alto nelle schede ovviamente sono due vetture molto molto diverse tra loro la Tipo Cross, questo nuovo crossover by FCA viene ridimensionato appunto nelle dimensioni scusate il gioco di parole esterne ma le caratteristiche principali di design richiamano quelle della normale Tipo a 5 porte la vettura presenta una larghezza maggiorata una nuova griglia e un nuovo bumper anteriore oltre a vari dettagli che la rendono quasi subito riconoscibile come un crossover vari elementi che richiamano un po' la vita avventurosa come le barre sul tetto o il bumper in grigio satinato o ancora gli specchietti con una colorazione diversa da quella della carrozzeria scusate, ma soprattutto le plastiche protettive ma non solo perché il cambiamento principale nelle sue dimensioni è l'altezza rispetto infatti alla nuova Tipo Life la Tipo Cross è più alta di 7 cm e tutto ciò viene contribuito dall'altezza maggiore dell'assetto di circa 4 cm le sospensioni sono state ritarate e abbiamo anche dei nuovi pneumatici maggiorati con un look a detta di FCA più robusto oltre a questo chiaramente vi ho parlato della presenza delle plastiche protettive del bumper specifico e anche quindi del suo look più solido, più muscoloso che si ritrova anche per quanto riguarda minigonne laterali ed estrattore posteriore prima di parlare delle motorizzazioni diamo un attimo uno sguardo agli ADAS perché la tecnologia non è solo quella data dalla dotazione del nuovo sistema infotainment Uconnect 5 ma anche dai sistemi di sicurezza e resistenza alla guida la nuova Tipo ha a disposizione degli ADAS di ultima generazione come il riconoscimento dei segnali stradali l'intelligent speed assist che è quindi questo sistema che suggerisce un limite di velocità impostato in automatico al conducente il lane control quindi che mantiene la corsia l'attention assist che riconosce appunto l'attenzione o la stanchezza del guidatore gli abbaglianti adattivi, il blind spot assist che sarebbe quel sistema che riconosce l'angolo cieco e anche il sistema keyless che questo è un sistema più che di sicurezza e di comfort insieme alla piattaforma di ricarica wireless dello smartphone che porta appunto un ingresso e anche uno start senza chiave praticamente con un semplice pulsante ma appunto parliamo delle motorizzazioni disponibili diesel e benzina rinnovati, inquinano di meno i benzina sono 1000 turbo 3 cilindri Firefly da circa 100 cavalli questo nuovo propulsore che eroga una coppia massima di 190 Nm a 1500 giri al minuto chiaramente più prestazionale rispetto al precedente 1400 da 95 cavalli che disponeva di una coppia di 127 Nm e chiaramente tutto questo rinnovamento di motorizzazioni permette delle emissioni minori rispetto a prima con un'emissione massima secondo ciclo VLTP di 121 g di CO2 per km abbiamo anche una rivisitazione della taratura del cambio che soprattutto in autostrada ad una velocità di crociera di circa 130 km orari riesce ad inquinare meno e anche a se vogliamo donare più comfort e minori consumi fermando i giri del motore a circa 3200 giri al minuto parlando dei diesel invece abbiamo gli Euro 6 di Final del Multijet con due livelli di potenza rispettivamente per il 1600 abbiamo un 95 o 130 cavalli quindi non più 1620 cavalli ma 130 e adesso abbiamo anche minori emissioni che raggiungono i 110 g per km secondo il ciclo VLTP prima di salutarci voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo alla nuova Tipo Cross che secondo me è un veicolo molto interessante con il quale Fiat ed FCA vogliono diventare ancora più competitive sul mercato visto il trend degli ultimi mesi ma soprattutto degli ultimi anni quindi si è visto che le persone nella loro vita cittadina cercano quel pizzico di avventura con dei veicoli che ricordano, seppur senza differenziali, senza trazione integrale o sistemi del genere una vita appunto più da fuoristrada tutto ciò che serve sono dei passaruota in plastica scura dei bumper, dei bull bar rivisitati e un'altezza leggermente maggiorata quindi qui parliamo di 4 cm dati dalle sole sospensioni e 7 cm totali per il resto la Tipo non cambia molto, cambia se vogliamo nella sostanza perché nella forma sono dei dettagli che la ringiovaniscono in questo restyling e ora appunto voglio sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche sui nostri prossimi upload e come restare aggiornati su tutti i nostri contenuti vi basta cercarci su tutte le piattaforme social disponibili e anche sul nostro sito internet semplicemente digitando wedrive.tv